Stiamo manifestando, abbiamo scelto il simbolo dei microfoni spenti perché è così che ormai siamo costretti a seguire le lezioni perché la connessione, le telecamere per un problema di connessione, però fondamentalmente la didattica a distanza non ci dà la possibilità di avere un dialogo fondamentale per la scuola in presenza perché la scuola è anche dialogo, non possiamo essere spettatori passivi ma tutta la parte di attività da parte nostra ci viene tolta ormai da troppi mesi e quindi chiediamo di lavorare perché le scuole superiori ritornino in presenza definitivamente in sicurezza e il prima possibile.